Sto filmando Ciao a tutti e che mangiare questo nuovissimo video come vedete inizieremo un nuovo gioco e come una volta è molto bello vado a vederlo però non c'è un po' volevo iniziare giusto una nuova avventura con voi e volevo vedere le altre nuovi con voi volevo iniziare questa nuova con voi avventura che bella avventura sarà una bella avventura ragazzi 20 un 6 9 10 12 12 12 13 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E chi è? E dove? E dove? Ah ecco. E' questa cristiana. Paola di dice. E' un chierista. Cristiana mi spara. Cristiana mi spara. Cristiana mi spara. Uff, mio Dio, sono morto. 3, 4, 3, 2, 1, 10. Well done. Well done. E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E' un'altra parte. Sì, c'è una spada, non lo so, ora di usare. Oh, my... Well done. Wow. E' un po' di là. Bye. Non è stato cavolo di qua. Grazie. 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 ma non è niziano è una pentola dai la Passiamo il teto, riuscire? Mi chiamo piccola, perché mangia? Non so, ma è un modo di dire. Perché sono così? No, sì. È un tetto di quanto tempo ci dobbiamo mettere. No, non so, ma è un tetto di quanto tempo ci dobbiamo mettere. Tutto qua, metà? No, non so. Mi chiamo, era un'altra parte. L'espirazione è quella che State abbiamo padella con la sua futura del vino. Tutto qui nella sua futura fraccia e con la sua figlia. Sono sempre Lucy che dovresti riprendere la sua futura. Lo scoglieremo le vostre fonte con la sua futura. Ma questa cosa è un chiamato. No, 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 no. Sì, sì, sì. Grazie a tutti Ciao a tutti